profita la sensazione di avere il cronometro in pugno e fischia la fine vince il Milan, vince 1-0, vince sul calcio di rigore 60 secondi dopo il rigore prima concesso e poi tolto per il pallo di mani di Acerbi adesso per attenzione Scintille, Scintille si accende questo finale si accende il tasso agonistico con lui Felipe, Vinicovici lo porta via che sì dall'altra parte, finale veramente poco edificante dal punto di vista agonistico in qualche modo è la misura dell'attenzione che c'era, non finisce ancora, altra rissa e ancora che sì, Luis Felipe provano a portare via tutti, anche i giocatori della panchina rossonera Vinicovici mi sembra si stia spendendo per portare un po' di pace con Chessy Gattuso prova a portare via i suoi giocatori lontani Calma, chiede serenità, lo stesso fa Inzaghi dall'altra parte la grande festa rossonera, la delusione della Lazio che aveva giocato una buona partita aveva avuto tante occasioni, un match complessivamente molto equilibrato risolto essenzialmente da un episodio molto equilibrato, risolto da un episodio, da un calcio di rigore la Lazio esce sconfitta ma non è